Che noi come italiani tolleriamo la corruzione, la tolleriamo perché molte delle cose che sono state raccontate in queste quasi 700 pagine di cui ho letto una parte tra ieri pomeriggio e stanotte, in parte erano già state raccontate, non dal punto di vista penale ma sotto forma di relazioni, dei finanziamenti che i privati facevano alla fondazione di Toti e non si è mai capito a fronte di quale motivo per cui si fanno le agizioni di questo tipo quando un privato finanzia una fondazione politica, delle relazioni con gli imprenditori del porto perché questo è un grande sistema, Genova vive intorno al porto ed è chiaro che se un soggetto politico va in barca nella barca di uno dei maggiori imprenditori del porto discutendo degli interessi di quell'imprenditore stesso al netto, come dicevi perfettamente tu, delle questioni penali, siamo tutti garantisti ma leggendo le intercettazioni dei favori che venivano fatti già si capisce che l'opportunità è molto discutibile quello che dice Tajani, che è un po' quello che dice Nordio, a me stupisce molto perché possiamo anche criticare la magistratura dicendo che burocraticamente funziona male che probabilmente bisognava, si poteva aspettare anche se il GIP non aspetta perché il GIP ha messo quattro mesi a firmare un'ordinanza 27 dicembre la richiesta e arriva l'ordinanza può aspettare un mese di più, in realtà no perché ci sono una serie di questioni burocratici si può anche dire che la giustizia funziona male ma da parte di due ministri così importanti, con il ministro di resta e il ministro della giustizia gradirei innanzitutto un commento sulle prove vedremo se poi a processo reggiranno meno ma sulle questioni politiche gigantesche che escono fuori noi abbiamo qui un governatore di regione appoggiato da tutto il centrodestra seppure Giovanni Totti sappiamo è un battitore libero infatti secondo me nessuno si sta stracciando davvero le vesti per questa caduta politica sembra che non è che proprio si straccino le vesti non mi pare, però Tajani a proposito di quello che mi dicevi tu che cosa insegna poco perché Tajani nel suo simbolo che c'è anche noi moderati di cui il presidente è proprio Totti non so se è stato sospeso, se è autosospeso oppure no andranno Lupi che è il segretario di quel partito col simbolo di Forza Italia insieme a Cuffaro domani sul palco e Cuffaro è uno ex governatore della Sicilia che si è fatto sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa che viene in qualche modo noi perdoniamo tutto in questo paese siamo troppo buoni Filippo beh non è una questione di bontà senti Filippo ti chiedo intanto aiutaci grazie